ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornate sul mio canale innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti perché siamo arrivati a quota 5000 già da un po solo che ho avuto delle delle brutte notizie ho dovuto subire due interventi poi terapie cose lasciamo perdere allora io dico sempre che non tutto il male viene per nuocere perché perché dopo uno l'ultimo dei miei interventi un mio amico ha deciso di regalarmi questa sapeva che la desideravo tantissimo però dopo tante peripezie forse riuscivo a prendere forse non riuscivo alla fine me l'ha regalata lui che cos'è questa questa è una stampante fotografica portatile è una figata assoluta ragazze ve lo devo dire gli stavo dietro già da un po questo è il modello meno costoso perché poi se andate su amazon trovate stampanti fotografiche veramente a dei prezzi proibitivi io mi tengo sempre molto bassa voi lo sapete poca spesa massima resa e allora intanto vi faccio vedere cosa fa aspettate che prendo la mia agenda e vi faccio vedere la mia solita agenda della mister wonderful allora vi faccio vedere cosa fa questa macchinina bella bella vediamo un po se riesco a trovare una foto dove ecco allora intanto guardate la nitidezza della foto la nitidezza del disegno dei colori guardate anche questo e soprattutto ragazze cosa che ho scoperto solo dopo aver letto delle recensioni su amazon ho scoperto che sono adesive cioè diventano fotografie adesive allora intanto lucidissime bellissime guardate i colori spettacolo allora è arrivata dentro questa scatola ovviamente credo che sia un prodotto vabbè xiaomi penso che sia cinese giapponese orientale diciamo che è un prodotto orientale funziona per iphone ipad e per android cosa che molte mini stampanti fotografiche non fanno o sono solo per iphone e ipad e altre sono solo per android questa funziona per entrambe le macro non mi viene il nome vabbè avete capito allora adesso ve la mostro intanto abbiamo il tasto di accensione questo poi questo è un stavo cercando di capire se riesco ad attaccarla da qualche parte per farvela vedere accesa ma non non ho niente vicino anche perché arriva con un cavetto che a parte essere cioè voglio dire è cortissimo e poi arriva così ma io voglio dire ma me lo vuoi dare un connettore che io possa attaccare alla corrente elettrica no ma non è un problema solo di questo anche le mini stampanti della fomemo che adesso vado a mostrarvi arrivano con vedete anche le stampanti della fomemo arrivano con questi cavetti che vabbè non è il suo ovviamente che praticamente potete attaccare al computer potete attaccare a quelle prese che hanno l'alloggiamento per questo tipo di carica niente arrivano solo con queste va bene allora mettiamo a posto le fomemo e continuiamo allora vi stavo dicendo al tasto di accensione si accenderà questa spia luminosa e anche questa solo che questa vi dirà quanto di quanto è la carica e quando inizierà a lampeggiare vuol dire che siete proprio in riserva e poi è arrivata aspettate con un pacchetto di questi dentro la scatola dentro l'alloggiamento c'era un pacchetto di questi contenente 5 come si chiamano aiuto è la carta fotografica vediamo se c'è scritto in italiano no ovviamente non c'è scritto in italiano vabbè è arrivato comunque con un pacchetto da 5 poi io su amazon no bugia non su amazon perché su amazon costano di più sul sito della jaomi ho trovato l'offerta di due pacchetti da 10 a 14 euro comunque se voi lo volete volete delle notizie più approfondite lasciatemi un commento e io sarò felicissima di rispondervi allora dicevamo praticamente questa questa carta fotografica inizialmente all'inizio di ogni pacchetto troverete queste schede arancioni aspettate che guardo se no pensavo di avere la custodia da 5 ma non ce l'ho allora praticamente queste sono le cartine che troverete così in pratica a cosa serve questo cartoncino arancione a calibrare tutte le volte il il dispositivo praticamente voi la fate scorrere ecco così vedete dovete mettere questa scheda a pancia in giù anche perché poi vedrete che tutta no errore la carta fotografica e dalla parte lucida verso l'alto comunque questo serve per calibrare il dispositivo comunque trovate le istruzioni sempre in cinese ci 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 la 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 aspettate che guardo ma no che c'è anche il francese comunque io adesso ne ho ancora alcune vedete ne ho ancora alcune e niente si chiude vediamo se si accende si si è accesa allora poi cosa vi posso dire che funziona col telefonino tramite bluetooth anche con l'ipad e l'iphone tramite bluetooth non c'è bisogno anche perché il cadetto non lo consentirebbe di attaccarlo si incartati pure mentre parli ma non fa niente si vede che qualche mese che non faccio video mi incarto come se non fosse insomma e buonanotte come se non ci fossero domani allora niente come vi dicevo si accende la spia questo vi dice che c'è della carica e poi quando praticamente voi lo connetterete col bluetooth al telefonino si accenderà anche questa poi anzi no questo il bluetooth già acceso questo non capisco perché non si sia acceso a no questo si accende il lampeggia quando sta finendo la carica ok poi questo va qui per ricaricarlo e basta solo spegniamo perché a parte che è molto comodo perché nel caso voi che non so vi arriva una telefonata arriva il corriere e vi faccio gli esempi della mia vita ha un autonomia per un determinato lasso di tempo dopodiché si spegne autonomamente poi cos'altro vi posso dire vediamo vediamo un po vi posso dire che ah ecco cosa molto molto importante sto leggendo il librettino perché arriva con un libretto delle istruzioni scritto in italiano anche in pratica voi dovete andare sul play store scaricare l'applicazione del del dispositivo dopodiché tramite telefonino vi chiederà il codice qr che è questo che trovate dentro il librettino e niente comunque è molto molto semplice vedete qui ci sono anche le istruzioni per farvi vedere come mettere questi come si chiamano questi come si chiamano questi smartshoot di side down cioè nel senso questo va a testa in giù e niente poi c'è scritto tutto è tutto molto 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 semplice vedete c'è scritto che arriva con la la presa usb e con un pacchetto con un pacchetto da cinque di carta fotografica stampa a colori non è come la fomemo come la peri page che stampano in bianco e nero questo stampa a colori ve l'ho fatto vedere sulla mia agenda e veramente vengono fuori delle cose spettacolari ovviamente non vi stamperà una quattro e neanche una cinque ma vengono fuori tipo delle polaroid all'interno nell'applicazione nel telefonino troverete tantissimi layout per stampare le foto che ne so tipo le polaroid appunto oppure ci sono tutti degli effetti speciali se li volete se volete modificare le vostre foto io sinceramente quando scarico le foto me le aggiusto già in fase di salvataggio cioè nel senso che prima mi aggiusto le foto e poi le salvo nel dispositivo nel telefonino quanto costa lo so essendo un regalo non sarei non dovrei dirlo però siccome era da una vita che gli stavo dietro lo so perfettamente allora quando lo vedi io costava sui 67 70 euro adesso costa 57 e qualche centesimo per cui è calato il prezzo a parte che ci sono anche le offerte outlet su amazon sul sito si trova molto più cara e poi niente comunque se volete una mini stampante portatile per attaccare per fare adesivi basta scaricare le foto sul vostro cellulare connettere il cellulare tramite usb al dispositivo che si chiama non ve l'ho ancora detto si chiama xiaomi che poi è xiaomi mi portable photo printer bello bello io lo desideravo da una vita ringrazio i miei due interventi che hanno dato modo a questo amico di regalarlo però fa sempre piacere ve lo posso assicurare che fa sempre piacere ricevere regali e niente se volete saperne di più lasciate un commento io sarò felicissima di rispondervi cosa volevo dirvi mio cugino alzheimer è sempre presente e vi saluta anche lui bene ragazze io vi mando un bacio enorme ancora un grazie con tutto il cuore per essere diventati una famiglia sempre più grande grazie perché mi seguite e per chi non mi dovesse ancora seguire iscrivetevi al canale attivate la campanella così non vi perderete nessun nuovo video spero di riuscire a farne altri anche facendovi vedere magari come funziona e niente noi ci vediamo al prossimo video un bacio ciao